Test Covid di massa e lockdown per 13 milioni di persone. A seguito di un picco di casi di coronavirus, la Cina ha posto in isolamento i residenti della città di Xi'an. La decisione ha poche settimane dall'avvio dei giochi olimpici invernali di Pechino. Rigorose misure antiepidemiche, oltre che antidoping, sono in campo nel villaggio delle Olimpiadi. Come spiega il Vice Direttore dell'Ufficio per la Prevenzione e il Controllo delle Epidemie del Comitato Organizzatore. Probabilmente vedremo un incremento nelle infezioni. Il rischio di trasmissione è piuttosto alto, ma siamo preparati per questo. Tutti i membri dello staff e gli atleti del villaggio devono effettuare il test dell'acido nucleico ed evitare contatti per ridurre il rischio di diffusione del virus. Gli atleti dovrebbero fare il test a sei ore dal loro arrivo. Raccogliamo campioni utilizzando tamponi faringei. Il test può essere eseguito 24 ore su 24, sette giorni su sette in caso di emergenza. La decisione del lockdown nella città dell'esercito di Terracotta è stata presa dopo la scoperta di 52 nuovi casi per un totale di 143.